il latte materno è l'alimento ideale per i primi mesi e le prime epoche di vita è l'alimento giusto per il cucciolo d'uomo non a caso il neonato nasce senza denti nasce con una spiccata volontà di succhiare e non a caso la mamma inizia ad arrivare il colostro e poi il latte quindi è l'alimento giusto per il neonato perché in realtà ha tutta una serie di vantaggi sia a breve che a medio e a lungo termine aiuta il bambino contro le infezioni ma aiuta anche la mamma a non avere certe malattie aiuta anche poi a distanza per non avere malattie anche nell'età adulta capita però che pur con tutti gli sforzi che una mamma mette in atto ci possa non essere sufficiente il latte della propria mamma e quindi in questo caso noi abbiamo attualmente dei latti sostitutivi del latte materno che sono davvero molto molto utili e molto vicini arrivano molto vicino a quella che è la competenza del latte materno ovviamente il latte materno rimane il gold standard rimane il riferimento per tutti noi che ci occupiamo di nutrizione ma devo dire che in questi ultimi 10-15 anni davvero sono stati fatti grandi progressi sull'alimentazione del neonato e del lattante cosicché possiamo avere delle formule da consigliare alle mamme che sono davvero molto utili con tutte le innovazioni che sono state effettuate in questi ultimi anni per rendere il latte in formula sempre più simile al latte materno lo sforzo è sempre stato quello di cercare di arrivare a mimarne la funzione più che proprio copiare il mero risultato della composizione quindi una funzione che vada nella salvaguardia della salute a breve a medio e a lungo termine pensiamo anche al sovrappeso all'obesità poi dell'età adulta ora abbiamo dei latti sostitutivi in grado di fare anche questo tipo di svolgere anche questo tipo di compito poi in tutta questa gamma di novità uno spazio anche importante è riservato anche al latte biologico latte biologico che ha un concetto dietro molto interessante molto attuale per quanto riguarda la sostenibilità ambientale il fatto di poter utilizzare anche con rispetto mi viene da dire sempre maggior rispetto anche la fonte di origine da cui il latte deriva per esempio i bovini in questo caso e quindi avere un'attenzione per quanto riguarda il non uso di sostanze particolarmente chimiche il fatto che questi animali possano stare all'aria aperta che possano pascolare che possano mangiare il fieno e tutte le situazioni da un punto di vista di qualità di vita anche dell'animale stesso che in letteratura sta evidenziando modifica anche la composizione del latte che l'animale dà e che poi viene opportunamente trattato per renderlo più simile al latte materno